L'unico paese dell'eurozona che ha un effetto snowball negativo, cioè il cui tasso di crescita nominale del PIL è inferiore al costo medio del debito e determina un'autoalimentazione del rapporto debito-PIL, l'unico paese dell'eurozona che ha lo snowball negativo. Questo è lo stigma italiano che manda a pallino tutte le meravigliose costruzioni, l'ultima delle quali è del Fondo Monetario Internazionale dell'altro giorno, del fiscal monitor periodico, che dice in omaggio a questo nuovo vento politico che espira in tutto il paese, basta con l'austerità qualunque cosa ciò significa, significhi in tutto il mondo, non ci sarà bisogno di fare austerità, perché lo snowball è positivo, cioè noi abbiamo crescita nominale del PIL che è ampiamente superiore ai costo medio del debito, quindi il debito plana spontaneamente in maniera indolore. Bellissimo! Se non fosse che questo è un concetto pieno di incoerenze temporali, che sono la cosa che pochi capiscono dell'economia, e se non fosse che tra tutti i paesi dell'eurozona, anche del G20 e dell'Ocse, c'è un paese che è l'unico deviante, l'unico che ha lo stigma che si chiama Italia. Se l'Italia non comincerà a crescere, a produrre tassi di crescita del PIL nominale superiori al costo medio del debito, che in questo momento è circa il 2% il costo medio dello stock di BTP, quindi l'asticella continua ad abbassarsi e sarà sempre più bassa nei prossimi mesi e anni, perché tutte le emissioni di BTP escono con rendimenti ridicoli, per cui visto che noi ogni 6 o 7 anni rinnoviamo lo stock, se noi resistiamo, tra 3-4 anni potremmo avere un costo medio del debito italiano intorno all'1,5%, dobbiamo solamente avere un PIL nominale che cresce più dell'1,5% e riusciremo a ridurre l'indebitamento. Vuoi vedere che non ci riusciamo comunque?